Topi enormi e carenza igienico-sanitaria al limite dell'emergenza e quanto denunciano i cittadini del centro storico di Avellino che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con topi grandi come gatti. Sì, non è la prima volta, è entrato anche nel mio garage un'altra volta, l'abbiamo detto più volte ma non ci hanno prestato ascolto. Mi dicono, lo posso prendere io? Mi dicono dove devo buttare, lo tolgo, io ho anche una nipotina, farle vedere questo proprio, è stomachevole per me. Siamo in centro, quindi a Piazza Libertà fanno lavori, vogliono continuare a fare lavori alle arterie di Piazza Libertà e qui che siamo a pochi passi da Piazza Libertà è una vergogna a mio avviso. I residenti sono esasperati e dicono di sentirsi abbandonati dall'amministrazione comunale. Siamo abbandonati, è uno schifo, se non scopriamo noi non viene nessuno a scopare, se non si pulisce noi, ma i topi ce ne sono un sacco qua dietro. O via d'otto. Siamo abbandonati, un po' l'hanno tolto Santa Rita, Santa Rita dovrebbe venire tutti ogni settimana, ogni mese per stare un po' puliti. Ma il problema del centro storico e più precisamente di via Trinità non è solo quello dei ratti ma anche della strada chiusa da qualche tempo. E insomma poi col fatto che è chiusa la strada, non c'è traffico eccetera, che poi non ho capito perché è ancora chiusa. Tra l'anziannata i lavori non si fanno, inizialmente si diceva che fosse il falegname. Il problema è che il falegname sono quattro mesi che è andato via, adesso ancora è chiusa la strada senza un motivo e quindi... Grazie a tutti.